Verso le nove e mezzo, quando sono rientrato in casa, anzi quando è rientrata mia moglie, si accorta che c'era tutto sotto sopra e questi erano entrati in casa e hanno rubato soprattutto le cose affettive. Ma accidenti, non vedo più la medaglia d'oro che la signora Isa Maria Pagnonsin mi ha donato quando ho vinto lo scudetto con la Pagnonsin Treviso. Nuovo furto in abitazione nella notte ad essere depredato nella sua casa di via Montefiori a Treviso un altro politico, l'ex assessore alla cultura Vittorio Zanini. Racconta di come, dopo essere uscito con la moglie per un'ora, dalle 20.30 fino alle 21.30, i ladri, che evidentemente li tenevano d'occhio, prima hanno messo fuori uso il sistema d'allarme e poi, una volta entrati in casa, si sono impossessati di alcuni gioielli in oro della moglie insieme ai regali e cemeli affettivi raccolti in 50 anni di carriera medica e professionale. Io ho cominciato a lavorare da Alfredo a 15 anni, il primo regalo l'ho avuto da lui, questo crucifisso con avorio, di avorio, che non c'è più, e poi tutto il resto, le mie coppe, le medaglie, i regali delle pazienti, accanto ad altre cose di proprietà di mia moglie, hanno fatto man bassa e hanno rovistato dappertutto, hanno rabaltato tutto. E con la rabbia cresce la sensazione di impotenza nel vedere la storia della propria vita messa a soccuadro dei ladri. Vi è una necessità di rassicurare le famiglie, le persone sotto il profilo della sicurezza, bisogna fare di tutto e non basta il controllo di vicinato, anche se è utile, anche quello, ma di fronte a queste persone organizzate bisogna pensare ad altro, che il comune ad esempio assuma un'assicurazione per conto proprio contro i furti come hanno fatto altri comuni, oppure organizzare i sorveglianti, oppure mettere in moto anche l'esercito.